vi faccio vedere una cosa meravigliosa questa qua i cazzari del virus il mio nuovo libro quante volte mi avete domandato scrivi la seconda parte del cazzaro verde eccola qua i cazzari del virus che è sicuramente una sorta di cazzaro verde parte seconda ma è anche di più oserei dire perché da una parte come dice il sottotitolo è un diario degli eroi di quelli che hanno dato il massimo durante la pandemia i medici gli infermieri volontari e dall'altra parte è una satira spietata feroce impietosa inflessibile implacabile contro i politici che hanno dato il peggio di loro stessi pensate a salvini pensate alla meloni pensate renzi a fontana a gallera ed è anche una sorta di diario delle nostre dirette facebook che abbiamo fatto a febbraio a marzo ad aprile a maggio con tantissime cose inedite sarà un libro che vi farà ridere parecchio sarà un libro che vi farà incazzare parecchio sarà un libro credo che quella vi farà anche commuovere spero tanto che vi piaccia e ricordate senza che nessuno ci senta chi non lo compra è un salvini un porro e uno sgarpi poi fate anche voi i cazzari del virus il libro più bello dell'estate e non solo dell'estate anche la copertina e figlia è un po' che velo che sia il colore Grazie a tutti.